Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scende in campo a sostegno dell'istituzione sinfonica abruzzese, il cui destino è appeso ad un filo ogni giorno più sottile, a causa di tagli ai fondi da parte della Regione. Dopo le eselocitazioni del Presidente Isa, Antonio Centi, il Capo dello Stato ha invocato un intervento del Presidente Luciano D'Alfonso, auspicando una rapida e positiva soluzione della vicenda. Lo ha fatto con una lettera ufficiale, inviata dalla Segreteria Generale del Quirinale. Un sostegno per l'orchestra, che domenica si è esibita probabilmente per l'ultima volta all'Aquila. Stipendi fermi da mesi ed una crisi di liquidità senza precedenti sembrano aver segnato il destino di un'istituzione del panorama culturale abruzzese, che da oltre 40 anni esporta il nome della Regione in Italia e nel mondo. I dipendenti dell'ente nei giorni scorsi hanno ricevuto il sostegno della città e della senatrice PD Stefania Pezzopane, che ha apprezzato l'intervento del Presidente Mattarella e ha invitato la Regione a fare il suo, non nascondendo neanche troppo veratamente qualche critica, richiamando tutti al senso del dovere, a partire dal Presidente D'Alfonso. Se la Regione dovesse rinunciare a sostenere la cultura, ha commentato la senatrice, penalizzerebbe l'Aquila e l'intero Abruzzo. Ma confido che il Presidente D'Alfonso, coadiuvato dal Vice Presidente Rolli, dal Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio e dai consiglieri regionali Pietruccio e Di Nicola e gli altri, siano consapevoli di quali sia la posta in gioco.